Non fanno un favore al Signore né alla Chiesa. Quei cristiani che hanno un tempo di adagio lamentoso, che vivono sempre così, lamentandosi di tutto, tristi. Questo non è lo stile del discepolo. Sant'Agostino dice ai cristiani, vai, vai avanti, canta e cammina con la gioia. E quello è lo stile del cristiano, annunziare l'Evangelo con gioia. E il Signore fa tutto. Invece la tristezza, questa troppa tristezza, anche l'amarezza, ci porta a vivere un cosiddetto cristianessimo. Senza Cristo la croce li vuota o cristiani che sono davanti al sepolcro piangendo, come la Maddalena, ma senza la gioia di aver trovato il risorto. Grazie. Grazie. Grazie.